Inquinamento, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza hanno beccato degli sciagurati che sversavano liquido industriale di una lavanderia nei canali di bonifica di Fiumicino, tutti chiusa la lavanderia e denunciato il proprietario e adesso vedremo quali saranno le conseguenze, non si sa il liquido ancora ma era fortemente tossico.